Corona di nostro Signore, via pratica dei 33 Padre Nostro. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù lascia la Sua Santissima Madre per andare incontro alla morte. Padre Nostro, che sei nei Cieli, sia santificato il Tuo nome e venga il Tuo Regno. Sia fatta la Tua volontà come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Celebra l'ultima cena pasquale e lava i piedi degli Apostoli. Padre Nostro, che sei nei Cieli, sia santificato il Tuo nome e venga il Tuo Regno. Sia fatta la Tua volontà come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Istituisci la Santissima Eucaristia e li comunica. Padre Nostro, che sei nei Cieli, sia santificato il Tuo nome e venga il Tuo Regno. Sia fatta la Tua volontà come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Pregando nell'orto del Tuo Livi, su da sangue, ed è confortato dall'Angelo. Padre Nostro, che sei nei Cieli, sia santificato il Tuo nome e venga il Tuo Regno. Sia fatta la Tua volontà come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. E abbandonato da tutti i Suoi discepoli. Padre Nostro, che sei nei Cieli, sia santificato il Tuo nome e venga il Tuo Regno. Sia fatta la Tua volontà come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Tradito con un bacio da Giuda e preso e legato come un ladro. Padre Nostro, che sei nei Cieli, sia santificato il Tuo nome e venga il Tuo Regno. Sia fatta la Tua volontà come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Davanti ad Anna, ricevo un ingiusto schiaffo. Padre Nostro, che sei nei Cieli, sia santificato il Tuo nome e venga il Tuo Regno. Sia fatta la Tua volontà come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Davanti a Caifa e accusato da falsi testimoni. Padre Nostro, che sei nei Cieli, sia santificato il Tuo nome e venga il Tuo Regno. Sia fatta la Tua volontà come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Dichiarando di essere figlio di Dio, è giudicato bestemmiatore e reo di morte. Padre Nostro, che sei nei Cieli, sia santificato il Tuo nome e venga il Tuo Regno. Sia fatta la Tua volontà come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Pietro lo nega tre volte, ma si converte. Giuda invece va ad inviccarsi. Padre Nostro, che sei nei Cieli, sia santificato il Tuo nome e venga il Tuo Regno. Sia fatta la Tua volontà come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Gli sputano in faccia, gli bendano gli occhi, gli danno pugni e schiaffi per tutta la notte. Padre Nostro, che sei nei Cieli, sia santificato il Tuo nome. Venga il Tuo Regno, sia fatta la Tua volontà come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. E flagellato, in modo crudele alla colonna. Padre Nostro, che sei nei Cieli, sia santificato il Tuo nome e venga il Tuo Regno. Sia fatta la Tua volontà come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Vestito da Reda Burla e coronato con bongentissime spine. Padre Nostro, che sei nei Cieli, sia santificato il Tuo nome. Venga il Tuo Regno, sia fatta la Tua volontà come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. E condannato a morte, su richiesta dei Giudei. Padre Nostro, che sei nei Cieli, sia santificato il Tuo nome. Venga il Tuo Regno, sia fatta la Tua volontà come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. E rivestito dei Suoi abiti, e gli è posta sulle spalle la croce. Padre Nostro, che sei nei Cieli, sia santificato il Tuo nome. Venga il Tuo Regno, sia fatta la Tua volontà come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Nel portare la croce, cade più volte sotto di essa. Padre Nostro, che sei nei Cieli, sia santificato il Tuo nome. Venga il Tuo Regno, sia fatta la Tua volontà come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. E aiutato dal Cireneo a portare la croce. Padre Nostro, che sei nei Cieli, sia santificato il Tuo nome. Venga il Tuo Regno, sia fatta la Tua volontà come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. E asciugato in volto dalla Veronica e consola le pie donne di Gerusalemme. Padre Nostro, che sei nei Cieli, sia santificato il Tuo nome. Venga il Tuo Regno, sia fatta la Tua volontà come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Giunto al Calvario, per ristoro, gli danno da bere vino mescolato con fiere. Padre Nostro, che sei nei Cieli, sia santificato il Tuo nome e venga il Tuo Regno. Sia fatta la Tua volontà come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Vieni spogliato delle Sue vesti, attaccatesi per il sangue e gli si rinnovano le ferite. Padre Nostro, che sei nei Cieli, sia santificato il Tuo nome. Venga il Tuo Regno, sia fatta la Tua volontà come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Disteso sopra la croce, vengono inchiodati ad essa mani e piedi con durissimi chiodi. Padre Nostro, che sei nei Cieli, sia santificato il Tuo nome. Venga il Tuo Regno, sia fatta la Tua volontà come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Vieni innalzato sulla croce e posto in mezzo a due ladroni. Padre Nostro, che sei nei Cieli, sia santificato il Tuo nome. Venga il Tuo Regno, sia fatta la Tua volontà come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Gesù prega l'Eterno Padre per i Suoi crocifissori. Padre Nostro, che sei nei Cieli, sia santificato il Tuo nome. Venga il Tuo Regno, sia fatta la Tua volontà come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Per ordine di Pilato, è posta sopra la croce il titolo Gesù il Nazareno, Re dei Giudei. Padre Nostro, che sei nei Cieli, sia santificato il Tuo nome. Venga il Tuo Regno, sia fatta la Tua volontà come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Al ladrone pentito, dona il Paradiso, mentre l'altro, ostinandosi, si danna. Padre Nostro, che sei nei Cieli, sia santificato il Tuo nome. Venga il Tuo Regno, sia fatta la Tua volontà come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. A Gesù assedato, viene dato da bere, fiele e aceto. Padre Nostro, che sei nei Cieli, sia santificato il Tuo nome. Venga il Tuo Regno, sia fatta la Tua volontà come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Gesù dona da Sua Madre il prediletto discepolo Giovanni. Padre Nostro, che sei nei Cieli, sia santificato il Tuo nome. Venga il Tuo Regno, sia fatta la Tua volontà come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Dopo tre ore di agonia, Gesù spira, il sole si oscura e la terra trema. Padre Nostro, che sei nei Cieli, sia santificato il Tuo nome. Venga il Tuo Regno, sia fatta la Tua volontà come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Gesù viene deposto dalla croce e consegnato alla Sua direttissima Madre. Padre Nostro, che sei nei Cieli, sia santificato il Tuo nome. Venga il Tuo Regno, sia fatta la Tua volontà come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Gesù è deposto nel sepolcro. Padre Nostro, che sei nei Cieli, sia santificato il Tuo nome. Venga il Tuo Regno, sia fatta la Tua volontà come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Il Terzo Giorno appare a Sua Madre. Padre Nostro, che sei nei Cieli, sia santificato il Tuo nome. Venga il Tuo Regno, sia fatta la Tua volontà come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Appare alle Tre Marie e ordina loro di annunziare ai discepoli che il Risorto, Padre Nostro, che sei nei Cieli, sia santificato il Tuo nome. Venga il Tuo Regno, sia fatta la Tua volontà come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Appare agli Apostoli e fa toccare a Tommaso le Sacratissime Piaghe. Padre Nostro, che sei nei Cieli, sia santificato il Tuo nome, venga il Tuo Regno, sia fatta la Tua volontà come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Grazie a tutti.